Molti di voi hanno già anche ordinato, io diciamo che la entina di minuti spero che addivinino anche i piatti così, poi non c'è il passeggio, perché sennò è brutto che ci sia il passeggio del cameriere, dei camerieri, quindi iscritti in accademia e anche non iscritti in accademia perché la possibilità di fare seminari extra didattici si darà la possibilità un po' a tutti di partecipare ai seminari, noi faremo prima di didattare sicuramente un seminario con l'Italia Scalano, il direttore di giuria, di attrice, docente di lezione e recitazione, faremo un seminario di recitazione con lei, quindi insomma vi invito ragazzi già ad iscrivervi al seminario perché lo faremo in accademia, ok? Da quest'anno la nostra Ilaria sarà con noi per il corso pluridisciplinare unito alla danza, quindi scusami danza E invitiamo qui, in posizione, Vincenzo Renzulli, primo confermente Io invito a prendere il microfono Vuoi alzare l'asta? Ti serve l'asta? Ok Bellissimo brano, scelto da Vincenzo Voi presentati Enzo? Mi chiamo Vincenzo, ho 20 anni, studiato all'Università di Fisciano pratico vari sport, karate principalmente e mi piace anche cantare Brava Alzate un altro bottino, basta, ti metti Tranquillo, tranquillo, ero io Proviamo il microfono? Prova Ok Il brano che ci deve ascoltare? Mi sono innamorato di te e di un vincitenco Bene che non avevo niente di più da fare ogni giorno mi pento d'avverti incontrata la notte volevo qualcosa da sognare mi sono innamorato di te perché non potevo più per stare solo un giorno volevo parlare dei miei sogni la notte parlare d'amore ed ora mi piavrai mille cose da fare io sento i miei sogni svanili ma non so più pensare a nient'altro che a te sono innamorato di te e adesso non so nel cuore io cosa fare ogni giorno mi pento d'avverti incontrata l'amore ti vengo a cercare e sono innamorato di te e io non vorrei vederti ancora volevo cercare il tuo volto tra le stelle e io volevo amarti di più mi sono innamorato di te mi sono innamorato di te grazie Enzo l'ultima parte era una tua ideazione era una tua creazione una tua creatura l'ultima frase perfetto grazie Enzo Roberta Della Fera lei è di Aiello del Sabato a 18 anni ci farà ascoltare Terra degli Uomini di Giovanotti Roberta vuoi dire qualcosa? ecco vedi fan club da lontano pronta? e a volte i forzunti si accasciano brava e da poco questo è stato iniziamo quindi l'approccio diciamo uno dei primi ok se la giora vendrà il tuo volto ma tranquilla lo farà e a volte i forzunti si accasciano dimenticano ogni lezione lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono e tutte le luci si accendono miliardi di pixel si infiammano si muovono al ritmo di un battito di un battito di un battito di un battito che siước e che erano Sono senza istruzioni a riprogrammare i simacoli, non cerca di santi ragioni E c'è sempre un gran sole a sorprenderci, l'indifferenza degli arbitri che stanno nella legge dei monitor, con le facce impassibili e sotto i miei piedi c'è un barato e sulla mia testa c'è gli angeli, proprio nel mezzo, nella terra degli uomini Dove suona la musica, l'amicizia si rigenera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola la chitarra si è elettrica e risuona gli armonici, dove ridono i salici, dove piangono i comici e la forza si amplifica, ed il sangue si mescola, e l'amore è una clappola ma che assente però, qualche volta ti libera, e ti senti una favola e ti sembra che tutta la vita non è solamente retorica, ma sostanza purissima che ti muta le cellule, e ti fa venire voglia di vivere, fino all'ultimo attimo dove suona la musica, nella terra degli uomini, dove tiene anche un posto perché di servizio, nella mia moglie di vivere, fino all'ultimo attimo fino all'ultimo attimo fino all'ultimo attimo fino all'ultimo attimo Grazie a tutti